Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi siamo qua con un nuovo gioco che si chiama Schoolboy Runaway Nuovo gioco fatto dagli stessi creatori di Metal Ora, qui dalla schermata principale non sembra, ma in realtà è un gioco horror All'interno di questo gioco saremo questo bambino e dovremo scappare via di casa Perché i nostri genitori praticamente sono impazziti Ci hanno messo in punizioni troppo troppo severe Quindi andiamo subito in partita Ma vi raccomando, lasciate qui sotto tantissimi like Iscrivete al canale con la campanella attiva E ci tenevo a ringraziare, benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale Ti ringrazierò tanto per il grande supporto Ma adesso direi di partire Cominciamo! Allora, il gioco si divide in atti Per il momento c'è soltanto il primo atto Escape, fuga Vediamo se riusciamo a scappare Vediamo se è possibile Quindi tocchiamo qua a start E si comincia! Vai! E' il bambino che torna a casa Ma devo dire che la grafica è fatta bene Cioè guardate qua pure gli effetti di luce, la tenda Com'è fatta? Ok, Henry! La mamma... No, chi è che ci sta chiamando? Il bambino fuori, l'amichetto Ok, mamma, mamma Posso uscire fuori? Il mio amico è qua Henry! Hai finito tutti i tuoi compiti? Sì, li ho fatti Ok, portami il tuo diario Adò notare che il bambino stava giocando a metal Ma cosa? Ma che diario sottile è? Cosa? C'è una F Una... C'è pure una nota C'è preso sia l'insufficienza che la F E la madre adesso si è arrabbiata Che dice Cosa vuoi fare fuori? Ma non ti vergogni Torna a studiare No outside Quindi non puoi uscire Ok, niente La madre che ha avvisato l'amico che non possiamo uscire Ok, watch out Se ti vedo fare altro Finirà in terribili guai E niente, dobbiamo studiare Finito così Ma perché? Ma no, ma non mi interessa metal C'è qui la schermata di metal che non ci interessa Ok Ed eccoci qua Intanto cosa stavo studiando sto bambino qua? Roba di matematica, vabbè Non si riesce neanche tanto a vedere bene Perché è troppo piccolo Direi che possiamo uscire fuori Che ingiustizia! Dai! Va bene E cosa dovremmo fare? Prima è vedere qui intorno se c'è un oggetto utile Qui c'è qualcosa Il PC lo posso accendere Posso giocare a metal sul PC Qua sul gioco stesso Ma che roba Qui? Posso fare qualcosa? Ah, ma ero praticamente chinato Ah, ho acceso il PC Mi sta accendendo il PC Cosa? Terribile Che è successo? Ah E niente, devo mettere una password E chi la sa? Cioè Il bello è che il personaggio non sa neanche la password Quindi mi sa che dovremmo cercarla Qui dentro c'è qualcosa dentro all'armadio Vestiti, vestiti Che non ci interessano Qui è vuoto O almeno Non sono vuoti Sti cassetti Ma ci sono soltanto robe inutili Che non ci servono Qui non c'è niente Ma che è che sta gridando in tutto ciò Ma a cosa? Vabbè Vediamo qui intorno cosa c'è Qui c'è una porta C'è il bagno Posso andare in bagno? Vediamo Accendo qua il rubinetto Ah, si può accendere il rubinetto Poi qui Posso aprire la tenda E forse mi posso nascondere C'è tipo un rastrello Va bene Qui invece cosa c'è? C'è il gabinetto Forse è meglio non tirar lo scarico Altrimenti qua Altrimenti qua niente Ma dai Ok, qui è bloccato con la chiave Qui cosa c'è? Un campanello Via, 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 via Andiamo, andiamo, andiamo Ok, la mamma sta uscendo Sto andando a vedere No, 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 no Ma dai Ma quanto tempo ci ha messo sta mamma Ad andare lì a vedere Eh, sì, adesso ci ha messo in punizione Dobbiamo pulire il pavimento Vabbè, puliamo qua Ma cara mamma Ma perché? Ma tutta sta cattiveria Ma avete visto? Ci ha pure tirato uno schiaffo Ma che roba Ora capisco perché sto bambino Vuole scapparsene via Ok, qua c'è qualcosa da pulire Pure il pavimento Ma poi c'è qualcuno che urla Ho capito chi è Forse il padre Forse il papà stava urlando Su, pulisci qua Non stare fermo qua Ok, sì, mamma Ho capito tutto Ho capito È inutile che ti metti qua a gridare Ma che roba Ma ditemi un po' Se mi tocca fare ste robe E allora Puliamo ancora qui Vediamo se c'è qualcos'altro a fare Su, mamma Ho pulito tutto Cosa c'è ancora da pulire? Ho fatto tutto quanto Se vuoi cucino qualcosa Niente Ah, forse qua davanti Ok E qui era ancora sporco Perfetto Buon lavoro Torna nella tua stanza E ti verrà a controllare più tardi Ok E fin qua tutto bene Ed eccoci qua Ritornati Ok Io però adesso voglio capire Chi era quella persona Che stava gridando Vediamo qui intorno Cosa c'è Provo a vedere di qua Ah, ok Qui c'è una porta Vediamo Sì Ah, ma c'è il papà Che sta guardando la partita Ma ecco perché Si metteva a gridare così tanto Ora ho capito perché Ma che roba Intanto qua Non mi sente È così concentrato Con la partita Che non si è accorto Che io sono di qua Va bene E ne andiamo qui dietro Perfetto Vediamo cosa c'è qua Ok, bloccato Devo fare attenzione Devo muovermi Prima che il papà si sveglia Perché Sennò qua Bel problema Chiudiamo tutti questi cassetti No, più che altro Perché se mi vede nella sua stanza Finisce molto male Qui dentro c'è qualcosa In questi cassetti Vuoto, vuoto Qui c'è un pc Ma è meglio Non aprirlo per il momento Di qua Posso aprire Niente È bloccato Qui è bloccato Non posso prendere niente Nulla di nulla Ok, l'armadietto Vediamo se c'è qualcosa Nell'armadietto Ok, niente Chiudiamo, chiudiamo Altrimenti qua Ok, mi accovaccio Apri la porta Chiudi subito Perfetto Via, via, via Via, via Ciao papà È stato un piacere Ok, ok Muoviamoci Io voglio riprovare qua Ad aprire la porta Vediamo Se qui posso aprirla No, niente Probabilmente Probabilmente la chiave Ce l'ha la mamma Vediamo Aspettate Io di qua non ho ancora aperto Forse qui Ok, ok Mi muovo con calma Forse posso prendere La chiave Dalle tasche Vediamo se riesco No, no, no Ma, ma, ma Dai No Ma mi è subito preso Niente Prendiamo la scopa E dobbiamo pulire qua Ma che roba Pure il giardino Dai Sì, devo dire Che devo ancora capire bene Come si fa sto gioco È la prima volta Che ci sto giocando Quindi devo ancora Imparare tutte quante le cose Ma pian piano Lo scoprirò Mi raccomando Se volete vedere altri video Di questo gioco Lasciate il like Fatemi sapere qui sotto In un commento Anche perché sto gioco In realtà è molto interessante Si ci potrebbe fare Una serie alternativa E qua di robe da fare Ce ne sono Ce ne sono tante Su, mamma E state zitta Se no sta scopa Te la lancio in testa Se non mi lasci stare E che roba Oh Già tanto che ti pulisco il pavimento Io voglio soltanto andare fuori A giocare con gli amici Perché non posso farlo Ma dico io Su, anche però Bambino Muoviti pure te a pulire Intanto qua sento I rumori della partita Vabbè che Ci sono gli europei In questo periodo Però Hanno messo la partita Pure qua all'interno del gioco Abbiamo pulito tutto Quindi Voglio vedere adesso però Se riusciamo appunto Ad aprire quella porta E poi nasconderci subito Nel ripostiglio Quindi Suona di qua Via 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 Chiudi subito qui No no chiudi Chiudi Ma che roba Ok la mamma sta andando di là Speriamo che si muova Stavolta aspetto eh Ok Via 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 Vediamo di qua se c'è qualcosa No non c'è niente Nulla di nulla Ok Torniamo subito di qua va Ok Mamma mia Mamma mia Un'ansia che ho avuto Che voi non potete immaginare Solo che Che cos'è servito Che la mamma è andata a vedere di là Cosa stop No Ho lasciato la porta Della cucina aperta No E mi sa che sto giro la mamma Ciao mamma Ma dai Ma sono qui sto studiando Stavo studiando No 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 Il padre è bello incattivito E questo è soltanto il primo atto Perché gli atti successivi in realtà Non sono ancora pronti Ah ho sbloccato uno degli otto finali Ci sono ben otto finali all'interno di questo primo atto Quindi veramente dai Ci sarebbe tanta roba da vedere Direi di fare una cosa Va Tocchiamo continua Vi faccio vedere soltanto un'anteprima dei prossimi atti Questo qua che non è ancora disponibile E poi c'è l'atto 3 Horror Quindi vuol dire che ci ritroveremo in una situazione molto molto horror Insomma Devo dire che è un gioco interessante da poter esplorare Quindi veramente supportatelo alla grande Fatemi sapere che usate commenti cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi racconto Spalliciato Quindi vi siete iscritti al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Poi ci vedete Poi ci vedete Buon panino a tutti Buon panino a tutti